La Juventus vince in scioltezza a Marassi, batte la Sampdoria per 3-1 senza quasi mai rischiare niente se non nel finale quando sul risultato di 2-0 che sembrava ormai ampiamente consolidato una deviazione di Morata su una punizione di Sabiri ha permesso ai Doriani di accorciare le distanze poi però è arrivato il terzo ed ultimo gol dell'attaccante spagnolo che ha chiuso ogni discorso e proprio Morata prende 6,5 perché si sacrifica, segna due gol, uno sul rigore e un altro con la complicità del portiere blucerchiato Falcone il voto sarebbe potuto essere 7 però c'è anche da mettere nel conto la sfortunata deviazione ma determinante che permette a Sabiri di accorciare le distanze 5,5 invece per Pellegrini che in fase difensiva se l'è cavata discretamente ma non ha mai spinto non è mai arrivato sul fondo a crossare 7 per Locatelli che pennella il cross per la testa di Morata in occasione del 3-1 bianconero ma non soltanto quello, molto ispirato l'ex Sassuolo 6,5 per Artur che gestisce bene il possesso palla 6,5 anche per Juan Quadrato che come a Firenze in Coppa Italia propizia il gol con una discesa sulla destra un cross in mezzo poi deviato in questo caso da un difensore della Sampdoria 5,5 per Vlaovic che quando è entrato ha avuto una buona chance però sprecata 2, e sottolineo 2 per il solito, disastroso, inqualificabile, mortificante Adrian Rabiot che ne combina almeno una partita e anche oggi l'aveva combinata la frittata il fallo di mano evitabilissimo che regala il rigole alla Sampdoria poi ben parato da Scesni che prende 7 proprio per aver neutralizzato il penalty di Antonio Candreva e anche oggi l'aveva combinata la Sampdoria